Ho scelto la scuola IUS dopo il liceo perché pur venendo da Ancona ero interessata all'Università di Pavia ma soprattutto al contesto delle scuole superiori autonome e quindi ho scelto di venire a Pavia e di iscrivermi e di tentare il concorso anche allo IUS. Un elemento molto positivo e di diversità rispetto a quello di un contesto universitario che ho trovato allo IUS è la possibilità di avere un contatto diretto e instaurare un rapporto personale con il corpo docente cosa che non è possibile in un contesto più ampio ed è dovuto sia alla disponibilità che ci ha concesso appunto dai professori ma anche al fatto che è un contesto più ristretto, più limitato. Grazie